Aggià, figliolo. Pensavo proprio che dovremmo lavorare insieme, tu e io. E ora la provvidenza ci dà modo di farlo. Benedetto sia all'Eterno, la mia rocca che ammaestra le mie mani alla pugna e le mie dita alla battaglia. Sono i salmi. Significa, fai quello che fanno i soldati, anche se sarà necessario andare in un paese senza Dio come questo. Da soldati, proteggiamo la gente e uccidiamo senza problemi. E cosa ci serve per fare il nostro dovere? La fede. Armi, Aggià! Armi! Senza armi come potranno passare per il mare dell'avversità e placare le maree? Aiutami, Aggià! E il Sentiero d'Oro riceverà le sue armi. Ok. Lode al Signore! Finalmente il ragazzo ha compreso la via! È partito un carico in elicottero dalla montagna, ma è caduto. Prendi questo strumento e recupera il carico prima che lo faccia l'esercito. La provvidenza ti darà un mezzo di trasporto. Che ne dici? Amen! Amen! Ora vai! Vai! Vai, Aggià! L'esercito ha diventato una relazione in pittina per sette mani. Non ci basterà mai. Ciao, Aggià! Ciao! Longinus, lo strumento che mi hai dato dice che sono vicino a qualunque cosa tu voglia da me. Perfetto, Aggià! Stai attento quando arrivi sul luogo dello schianto. L'armata reale avrà di sicuro inviato degli uomini a recuperare il carico dell'elicottero. Se devi, uccidili. Altrimenti muoviti come un ladro nella notte. L'armata reale avrà di sicuro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ma non poteva prendere il controllo di un'altra parte, ma non è più in un modo... Un'arma da fuoco! Sì, vengono! Un'arma da fuoco! Ora ti farà! Sì! Come si sanno cresculo! Un'arma da fuoco! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 i diamanti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. le avranno. li avranno. e non solo. Vai. Dì ad Amita e Sabal, che avranno le loro armi. saranno interessati anche al fatto che Depler ha pronto un grosso carico doppio alla Vettia Fabbrica del Tè. Come oppio? Altri orribili affari, Ajai. Ora vai! E comunica! Quando avrai finito, torna da me! Il lavoro del Signore non finisce mai!